e registrazione buonasera e ben ritornati in un video un po quick e laggo questa qui praticamente ho finito di bildare fa abbastanza schifo al cazzo ma ve la terrete così per quanto riguarda attualmente questa è la piazza del mercato dove ogni player in base al posso muovermi in base a come uno ha l'intenzione di farsi lo shop può venire qui costruire il mercato e iniziare a fare il trade questi sono i lotti che uno può avere in questo lotto qui un po risicato è possibile piazzare fino a quattro shop quindi uno per ogni categoria e il pianale fatto tutti gli slab per via di non far spawnare enderman e lo stile più o meno riprende come si chiama l'arena dell'ender drago ovviamente voi vedrete trasparente ma in realtà ci sono delle barrier quindi non si potrà scavalcare il piazzale per andare a sconfiggere il drago bisognerà seguire tutta la routine prevista dalla modalità essendo slab il primo blocco sarà da piazzare il slab poi tutto il resto della bancarella la potete fare in tutti i blocchi che vi pare non c'è claim non c'è nulla mi raccomando state attenti però io io richiedo che questa zona non venga griffata assolutamente ho messo un bot a farla e se qualcuno la griffa mi incazzo come una iena però detto questo adesso andrò finito il video andrò a settare un npc allo spawn e potrete venire qui e iniziare a farvi su il vostro la vostra bancarella il video l'ho pubblicato in novità nella sezione di discord quindi mi raccomando fatti bravi noi spieghiamo in game